ciao a tutti i ragazzi e ragazze bentornati sul canale di jored prima di proseguire con il video vi invito se vi va di mettere like al video e iscrivervi al canale per avere altri aggiornamenti iniziamo è stata una puntata interessante quella appena andata in onda dei grande fratello puntata dove ha visto l'eliminazione di uno dei concorrenti che all'inizio del programma era tra i favoriti per la vittoria l'eliminata e proprio lei gressia colmenares ma altra parte interessante è stata anche l'apertura del nuovo televoto aperto scendi il secondo finalista quattro i concorrenti in lista rosy anita letizia e paolo sono loro che si contendono il secondo posto in finale in attesa di lunedì 11 marzo giorno in cui verrà chiuso questo televoto vediamo cosa dicono i sondaggi e voi chi state votando siete d'accordo con il risultato scrivete nei commenti e ditemi la vostra per il momento ho concluso questo piccolo video news un grosso abbraccio alla prossima news